Perché sei sempre stanco? Il ruolo dell'alimentazione nella tua energia. Ti senti sempre stanco, senza energia, come se ogni giorno fosse una battaglia? Probabilmente la colpa è di quello che mangi. Oggi scopriamo insieme il perché. La nostra alimentazione ha un impatto enorme sulla nostra energia. Alcuni cibi, invece di darci forza, ci affaticano. Ma prima di iniziare questo video, voglio invitarti a lasciare un like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e a prendere iniziative sempre più performanti. Inoltre, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva la campanellina. In questo modo non perderai i prossimi video in programmazione sugli argomenti del benessere salute e nutrizione. Gli zuccheri raffinati, per esempio, ci danno un'energia immediata, ma poi ci lasciano più stanchi di prima. Il motivo? Causano picchi e cali glicemici. Anche i cibi ricchi di grassi saturi, come alcuni tipi di carne e formaggi, possono appesantirci, rallentando la nostra digestione e facendoci sentire affaticati. Non dimentichiamo gli alimenti ultraprocessati. Pieni di additivi, conservanti e zuccheri nascosti incidono negativamente sulla nostra energia quotidiana. E l'alcol? Pur essendo socialmente accettato, l'alcol può seriamente influire sul nostro livello energetico, disturbando il nostro sonno e lasciandoci esausti il giorno dopo. Cosa possiamo fare, allora, per sentirci più energici? Il primo passo è dare priorità a cibi integrali, ricchi di nutrienti, che sostengono la nostra energia in modo sostenibile. Fare colazione con cibi che rilasciano energia lentamente, come avena o pane integrale, può fare la differenza nel corso della giornata. Includere proteine di alta qualità, come legumi, pesce o uova, nei nostri pasti aiuta a mantenere stabili i livelli energetici. Non sottovalutare l'importanza di idratarsi. Bere acqua regolarmente è fondamentale per evitare la fatica causata dalla disidratazione. Gli snack! Scegli frutta fresca o frutta secca. Sono ottimi per uno sprint energetico senza appesantire il nostro organismo. Ricorda, il modo in cui mangiamo influisce non solo sulla nostra energia, ma sulla nostra salute generale. Ascoltare il nostro corpo è il primo passo per apportare cambiamenti positivi. Infine, considera di ridurre il consumo di caffeina. Seppur energizzante, può disturbare i ritmi naturali del sonno, contribuendo a un ciclo di stanchezza. Ciao, ti interrompo solo per un momento. Se è la prima volta che ti trovi su questo video, voglio spendere due secondi per presentarci. Sei sul canale YouTube di Cibo Matto Day, la rivista settimanale che ti informa su nutrizione, alimentazione naturale e curiosità culinarie nei borghi d'Italia. Se ancora non sei iscritto al canale ti consigliamo di farlo ora ed attivare la campanellina per rimanere aggiornato sui prossimi video. Ma il consiglio più grande che voglio suggerirti è quello di visitare il nostro sito store. Lo trovi in descrizione. Dove trovi davvero ottime risorse selezionate per te in base a questo video che possono aiutarti per risolvere diverse situazioni importanti. Trovi il sito qui sotto in descrizione e questa settimana puoi accedere a sconti fino al 70%. Ora possiamo continuare con il video. Con piccoli aggiustamenti nella nostra alimentazione possiamo significativamente migliorare il nostro livello energetico e la qualità della nostra vita. Iniziamo oggi stesso a fare scelte alimentari più consapevoli. Iniziamo oggi stesso a fare scelte alimentari più consapevoli.